Con distanze mascherine ormai abbiamo imparato a conviverci, non tutti però continuano a rispettare le norme anticontagio imposte dal governo per far fronte alla pandemia, in particolare sul lungomare dove si creano assembramenti e le alte temperature rendono difficoltoso tenere in volto i dispositivi di protezione. Con il passare dei giorni poi aumenta anche la voglia di giocare in compagnia in barba alle regole. Da qualche settimana, dopo mesi di lavoro incessante con oltre 19.000 interventi, il CB Club Mattei sta svolgendo controlli di prevenzione sia in centro storico durante il mercato settimanale sia sulle spiagge fanesi. Siamo in aiuto e in supporto alla Polizia Municipale per quanto riguarda gli assembramenti al mercato, l'entrata, le vie di esodo dove si entra e come si esce e l'utilizzo delle mascherine, naturalmente basta che ci vedano, non c'è bisogno neanche di intervenire anche perché non interverremo, avviseremo solo la polizia locale, ma in quel caso noi fungiamo da deterrente e mettono subito la mascherina. Così lo stesso, partiamo tutte le mattine e tutti i pomeriggi sulle spiagge, tutto da Fosso Signore fino in pratica a Ponte Sasso e una squadra, a volte prendono il quad, a volte lo scooter, a volte la macchina, secondo del volontario come se la sente, partono da Rastat e una parte va a nord e una parte va a sud e in quel caso lo stesso, anche qui quando se c'è qualcosa, ad esempio ieri c'erano dei ragazzi che giocavano a pallavolo, è stato sufficiente passare sulla strada perché in pratica terminassero alzando la mano come per dire ok abbiamo capito. Invece laddove ci fossero assembramenti la protezione civile richiede l'intervento dei vigili urbani. D'altra parte, ci spiega il Presidente Saverio Livi, proseguono le iniziative di formazione per i volontari. Dopo il Covid tutti quei ragazzi, ragazze o persone che avevano chiesto durante il Covid di poter far parte della protezione civile non è stato possibile perché non era possibile fargli dei corsi, sono arrivati quasi una decina di volontari, non tutti saranno definitivi perché poi alla fine provano, vedono come l'ambiente, sicuramente più della metà rimarrà e c'è ancora la necessità di qualche volontario, soprattutto quei volontari che sono liberi anche durante il giorno, quei volontari che sono in pensione, casalinghe, studenti, giovani, quelle persone che hanno del tempo libero da dedicare anche oltre alla protezione civile, che interventi, ripristino e tutto il resto, anche per quello che riguarda i servizi del Cipi Club Mattei che sono in aiuto al mantenimento della protezione civile, quali le scuole quando riprenderanno, oppure il trasporto di disabili anziani, tutte queste attività collaterali alla protezione civile che ci permettono di andare avanti, ecco questo tipo di volontario necessita anche quello, oltre quello formato appunto per i campi di protezione civile.